Musica Gionborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui, guardate casualmente, proprio sono capitato in un prato verde con ZF Jackson Ciao ragazzi, ciao Simu Ciao e oggi che andremo a fare? Oggi andremo a fare dei quiz Il primo se non erro è, indovina la squadra dallo stemma Ah dallo stemma? Indovina la squadra dallo stemma, io contro di te Allora facciamo anche un quiz per i ragazzi qui Quindi Simu metterà qua da qualche parte uno stemma Ragazzi cercate di indovinarlo qua sotto nei commenti Mi raccomando, vediamo chi ce la fa, metto il cuore a chi ce la fa Bravissimo Detto questo ci sfidiamo io e te in questo momento 3, 2, 1, pronti via, questo è il primo stemma Allora, Gothenburg, Aston Villa no, Young Boys no Barnmouth se non erro E' giusto, era Barnmouth Tocca a me, a me mi è andata facile Qui c'è Sporting, Getafe, Borussia Moshengladbach, Bastia, Paris Saint Germain e Hamburger Bonno l'hamburger Bonno l'hamburger Però questo è lo Sporting Lisbona Tocca a te Ok, allora Grand piano andiamo a salire con il livello IK Tene, Fulham Atletico, Levante Dovrebbe essere il Levante Ed è il Levante E 2-1 per te Oh mannaggia a te Malaga, Hannover, Dinamo Mosca, Alciti, Valencia, Lockeren Questo è il Malaga Sì E questo è il Malaga Questo è il Norwich Questo è il Norwich, è la Sampdoria Ah ecco forse questo è un po' più difficile Adesso si inizia un po' più difficile Allora, Napoli no Ah la so, la so Milwall no Victoria Pilsen no Fenerbahce no Almeria o Estoril Almeria, Almeria Giusto? Ok Vai, questo è Tolosa, Olimpia, Costos, Osuna, Bocaglione, Schalke, Evian Un saluto a Acqua e Evian Per chi segue il mio secondo canale Ma è il Tunes E che cavolo Questo è semplice Questo è semplice Stoccarda, PSV, Milwall, Trabzonsport, Besiktas, Aberdeen No, PSV Ok Oh Si va un po' più sul difficile, finalmente Olimpia, Costos, Valadoid, Parma Nantes, se non erro Ed è giusto E che cazzo è questo? Un saluto a... Sola Pedro Rull, Cordoba, Koper, Dortmund, Verona Io questa non la so, tipo Non la so Ma poi che cazzo è il Capodistria? Comunque il punteggio lo stiamo tenendo? Eh sì, siamo 5 a 4 per te Ok Come Capodistria? Che cazzo è... Dov'è Capodistria? Non ti posso aiutare? A parte non la so Ah, il Verona non è E la leviamo Il Cordoba non dovrebbe essere Il Dortmund non è Forse il Cordoba Non ne ho la più palestra Il Cordoba Eh no, errore Io, io regà Tocca a te Tocca sempre su questa? Eh sì Che cavolo è questa? Vabbè, Reims non è... Quelle tre sotto non sono Petro, Lull No, errore! Ha reso una pippa Quel poraccio vicino a lui E allora Koper Giusto Ma cos'è? Ma cos'è Koper? Vabbè, sono stati... Ma cos'è Capodistria poi? Sono stati cattivi stavolta Poi ci hanno messo PSV Quello e quell'altro Vabbè, ci sta comunque Le stavamo azzeccando anche velocemente Appunto! Ma vaffanculo va Ma vaffanculo va Manchester Vabbè Anche per me sì No, perché secondo me Quando abbiamo sbagliato adesso Riniziano Newcastle Vaffanculo va Lo sai? Lo sai? E qui potreste essere indecito tra due secondo me Sì Tra il Maribor e il Mlada Però Io lo so Io lo so Il Mlada sinceramente non l'ho mai sentita Il Maribor almeno l'ho sentita È il Maribor Vabbè A me regà qui A parte questo è il Boca Ok? E si sa Ma poi Malaga, Iaccio, Aic, Liverpool Sicuramente è il Liverpool Parma, Young Boys, Sporting, Fosburg, Olympia, Benfica Fosburg Ok Tocca a me Siamo otto pari Espagnol Espagnol Bah Sei il Cesena Col cavalluccio il Cesena Ok Questa la conosco per l'Europa Dovrebbe essere il Paok A questo punto come facciamo? L'altro automaticamente diventa vincitore Quando uno dei due sbaglia tre volte Per adesso abbiamo sbagliato uno Il Paderborn Ah no Erta Berlino? Eh sì Ti giuro mi sono confuso Ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Non credevo riuscissimo ad arrivare a tanto ragazzi Non credevo riuscissimo ad arrivare a tanto E a me invece mi capita il crotone Ma ragazzi fateci sapere qua sotto anche voi insomma quali avete indovinato e quali non lo sapevate E questo non è semplice Beh mi sembra greca Eh infatti ti aiuta lì Ti aiuta lì Questo è il Betis Ma perché a me è sempre questo? Io lo so questo Dovrebbe essere... Stavo spaccando tutto Partizan Belgrado Io non posso dire nulla L'hai scrinnata? Buo scrinnata Ah non lo sai se... Non so se hai iPhone Manco io Partizan Belgrado Ho visto quelle due stelline lì Eh giusto E che cos'è? Allora La cosa positiva Lo sai qual è? L'unica cosa Perché c'è solo una spagnola Perché c'è solo una spagnola Vai Vabbè Al City The Tigers Bravo Livorno Questo è Ciccio Tavano E Lucarelli Ah è Copenaghen questo Questo è il... Raga ma siamo troppo forti comunque Ma vuoi perdere qualche punto per strada? No Siamo troppo forti Questo lo so Nordgelland No Mittiland Pensavo al Nordgelland Vabbè questo è Piemonte Calcio Ma che è? È Piemonte Calcio È palesemente Piemonte Calcio Poi è quello vecchio Vabbè E questo invece è l'Inter È il Milano Calcio È il Groningen Ah questo c'è in... Attenzione C'è in League 2 Eh io questa non la conosco Palesemente non c'è in League 2 Perché... No è il Blackpool Sì Bravo Sì sì Bravo Questo è il Club... Sì sì No l'Underlecht Che è... Sei andato vicino a sbagliare Mamma mia Io questa la so Questa pure io Non ti aiutavo nemmeno Sì perché c'era pure l'Underlecht Questo gioco non ci vuole... Atalanta Difficoltà Atalanta Ah ecco Cintro però Come... No questa che cazzo non la ne so io Eh Io questa la so La so Dovrei saperla Vuoi? Io mi butto su Aberdeen No Quindi vinto tu No Dobbbero sbagliare 3 volte Eh sì Nel senso ho sbagliato io 2 volte Eh sì Che ti dice il cervello? Che sei spento il cervello per un attimo Siviglia Vabbè Chelsea L'inizio ragazzo è ormai Lione Attenzione L'inizio ragazzo è ormai Ormai lo so Che cazzo è? Questo è andato manco io Sturmgratz Che roba è questo? Che cazzo è? È il Piemonte Calcio 2 Allora Si questa è Allora Porto non è Il Blackpool secondo me non è Ah lo so io che cos'è Lo so io che cos'è Questo è il Mlada Perché secondo me è l'FK Mlada Boleslav Che è una squadra cieca Ah Non c'è il cervello Non lo so Questo l'avevamo già Questo l'avevamo già fatto mi sa Era l'Underlecht La Fiore Eh sì No questo lo volevo mettere in Granada io veramente Er Valencia Dove ci sono Florenzi c'è andato a Valencia no? Sì Questo è l'Espagnolo Totò di Natale Questo è quello Renn Ma questi sono facili dai Vabbè il Sassuolo però tipo per un non italiano È vero Non è facilissimo Beziktas Ma se noi doviniamo anche Mlada Boleslav Eh Questa la so Haiduk Spala Spalato O Spalato Sì quello bravo A 9 Salta Vigo Bornuf Faccio ma questa è tu? O Tenerife o Petrolull Sono a Tenerife Eh sì anche che non c'è nessuna P qui Scrotone Vabbè Sono a me la Roma Beh anche te la me O Sasuna Stoccarda Ma forse Però guarda che non gli vuoi Forse Grasshopper Sì però lascialo You'll never walk a Lord Dai Vabbè ma tanto via che non lo so Ok questo Il Cordoba Bravo Hellas Madonna Allora Facciamo tutta Verona Restiamo lì Questo è il Tolosa Già fatta Già fatta Questo è il Partizan Ah attenzione Allora Allora Paolista Il Corinthians Paolista Lo Slovan Lo Slovan Ma che cazzo è questa? Questo non ho più pallidere di cosa sia Motherwell Ah ok L'Olympicos Bravo Vabbè c'è scritto Pata Praha C'è scritto Praha Eh ecco FIFA mi aiuta Questo che cazzo è? Ebbè Questo è quello vecchio Sì Tra l'altro mi piace di più quello che adesso Questo dovrebbe essere il Vitesse Oddio Quante voglio? Questo non lo saprò manco io Forse sì Forse per Nooo E ho vinto E che cazzo era? Non lo so Però forse è l'Evion No si Vospor No prova Evian Aspetta È perché è Gagliar Ogni No Evian Evian E ho vinto E ho vinto E ho vinto Però hai vinto Però ho vinto Ma è stata dura però È stata dura Ne abbiamo fatti tantissimi cazzo Tantissimi Cioè guarda C'ho il cellulare Intrinseco di stemmi Va bene ragazzi Oh Mi raccomando Vediamo anche se indovinate Mettigli uno veramente difficile Ecco sì 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 Anzi Voi ve ne faccio un altro Adesso ve ne faccio anche un altro Ricommentate e mettete anche questo Voglio vedere Se questo Lo indovinate Se indovinate questo Ecco ragazzi Io vi commento Tipo con il cuore Vi commento con il cuore Non metto il cuore Vi commento con il cuore E ragazzi Fateci sapere la vostra Fateci sapere quanti L'avete indovinati qui sotto Mi raccomando Vi chiedo 10.000 mi piace Per una nuova sfida Qui sul canale Con ZF Jackson Dai ragazzi Che mi devo riscattare Voglio vincere Per riscattare La prossima volta Facciamo le maglie La prossima volta Facciamo le maglie Quindi mi raccomando 10.000 mi piace Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al suo canale ZF Jackson Neanche al suo secondo canale Trovate tutto qui sotto In descrizione Mi raccomando Perché fa carriere Qui sotto trovate anche Il mio secondo canale Quindi mi raccomando C'è un pappiet de roba grosso Quando c'è un pappiet de roba grosso Sì qua sotto Date un'occhiata Perché molte cose Qualcosa vi potrà interessare Sì qua così Insomma Vi rendiamo tutto A parametro 0 Qua sotto Grazie a tutti Per questo video Buonasera Alla linea come sempre Ci vediamo In un prossimo video A presto